I tecnici dell'Arta, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, sono al lavoro già da ieri per monitorare la situazione dopo gli incendi di Scerne di Pineto e Chiatiscalo in due stabilimenti. Rilievi sull'aria e controlli mirati, controlli puntuali per scongiurare rischi per la popolazione, dopo le ordinanze emanate dai sindaci nei rispettivi comuni, anche se qualche restrizione sta accadendo. I rilievi che si stanno portando avanti sono sull'aria, con delle sacche che l'aspirano, sull'acqua e sul terreno. Sono state trovate nell'immediatezza sostanze nocive per la salute, ma in prossimità degli incendi e quindi sostanzialmente in una concentrazione normale dopo ciò che è accaduto. I primi risultati dunque sono positivi per l'Arta, per altre zone non dovrebbero esserci rischi, ma chiaramente i controlli proseguiranno. Già nelle prime ore i tecnici Arta sono intervenuti con una unità di crisi. Ora ovviamente le sostanze rinvenute sono i classici IPA, gli idrocarburi policiclici aromatici, xilene, toulene, benzene, prodotti della combustione in assenza di ossigeno, che rappresentano una certa nocività, una pericolosità per la salute dell'uomo, ma anche con ricadute ambientali, pensando ai terreni e anche ai fiumi che possono essere interessati dalle acque di spegnimento. L'opera dell'Arta continua per verificare tutte le matrici ambientali e fornire le informazioni sullo stato dell'inquinamento che ci verranno richieste. Ecco, al momento questi risultati sono positivi, cioè ci sono rischi per la salute concreti? I risultati sono positivi nella misura in cui ci sono queste sostanze frutto della combustione. Riteniamo però che anche in ragione del vento o perlomeno delle movimenti d'aria possa questa nube disperdersi e quindi far venire meno la sua intrinseca pericolosità. Ecco, al momento non ci sono rischi per la salute, ma è una situazione da tenere sotto controllo, ovviamente proprio per queste ragioni che lei spiegava. Non escludiamo nulla, ma con il passar del tempo le informazioni saranno maggiori e il quadro si andrà a delineare maggiormente. Grazie. Grazie. Grazie.